Il nostro progetto per la casa della cultura è arrivato Oh, fammi vedere, fammi vedere Guarda Qui ci sarà la sala cinema Lì lo studio di registrazione Lì sotto l'aula teatro Lì l'aula studio Un campetto da basket Uno da calcetto Due al fai L'area ristoro L'area svago Il magazzino Il service La sala danza La piscina Gli uffici del personale La cucina La sala conferenze Laboratori di produzione culturale permanente Sì, vabbè Io vado a giocare a bocce, va? Che bella che sarà Grazie a tutti